Perchè esistono organismi geneticamente modificati? Perchè senza la biodiversità non possiamo vivere? Perchè le rondine sono diventate poche? Perchè l'aria inquinata? Perchè i todo sono estinti? Perchè le api sono scomarendo? Perchè tante specie di pesci non si trovano più? Perchè muoiono le piante? Perchè i fiori hanno bisogno delle api? Perchè muoiono i fiori? Perchè il mare è sporco? Perchè le api stanno scomparendo? Perchè non ci sono più frutti di tante specie? Perchè gli orsi non ci sono più? Perchè gli alberi muoiono? Perchè i lupi stanno scomparendo? Perchè il mare non è pulito? Perchè le piccole sono diventate? Perchè ande Grazie a tutti